mamma mia se volete acquistare crediti fifa a basso prezzo andate su fifaultimateincoins.com e con il codice GRAN avrete il 5% di sconto bella la vita sul canale di GRANNAS siamo tornati con il rotto di vision one e come potete vedere questa è la classificance 6 punti in 7 partite perchè il 2 non ce l'ha contato avevamo vinto e 2 non ce l'ha contato avevamo vinto ti avevo letto di regoglio vabbè comunque sono successe un po' di cose e invece vi facciamo vedere la rosa perchè molti di voi non hanno visto la rosa anche se l'abbiamo fatta vedere l'altra volta la farà vedere il buon Daryl vai Roy sei fortunato grande, comunque abbiamo Robben abbiamo venduto Neuer quindi abbiamo Varian Feller che non è male alla fine molti di voi ci hanno considerato anche di cambiare modulo e di fare... ce ne stiamo pensando di cambiare modulo e fare tipo Lewandowski centrale e Robben e Royce sui lati che non sarebbe male ci stiamo pensando e penso che la faremo e quindi questa è la squadra anzi questa è la squadra questa è la squadra e tutto a posto bello eccolo incredibile Fc Boga Berkest Premier League bella ragazzi ecco ecco vediamo Berkest Premier League con Wayne Rooney Diego Costa stavi dietro Jack Wiltshire Fabregas e Ramsey oh ancora Wiltshire palla per rune rune in mezzo no 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 che cazzo sti che cosa fa immobile che cosa fa immobile che cosa fa immobile non lo sa neanche lui immobile continua no vaffanculo magico guardami bella palla cazzo del punta no 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 ma perchè sta cosa perchè vanno affanculo i giocatori oh dobbiamo vince lo so dai caglio vada da morco 2 ma come stai non si riuscita che cazzo fa va bene così apri il gioco fuori gioco incredibile magnifico fantastico non sei buono ma sti così per te perché te ne sa andato te ma che cazzo fai no se ne sta in là la vi ha non si sa perché te ne sa andato ma perché ti va se cazzo ho capito ma è ho la pace ma il gioco ma ho la pace 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 ma ho mai preso gol uh vai 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 bello perfetto lo fai ti prego fallo no 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 che sta arrivando farlo tira devo dire su di voi no la fai hai tirato su no no non dire che tirao tavolo basta a mezzo però perchè era lenta non si sa ora sull'opposizione che non c'è fattini fattini oddio c'ha la va in mezzo c'ha la va in mezzo ah la va in mezzo vai oddio sassi tu no 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 non ci voglio credere c'è vabbè ma perchè fa ste cose ma chi perchè non c'è la cosa oh tira tira piscic oddio che dov'è passata ma adriata è entrata uscita adriata infatti battiti che sei più veloce no dai questo è fallo qualca puttana fai della puntata in piede vabbè no pallo l'altro tiro il cazzo si può fare parecchè tipo di rinforza però ho tutti da centrocampo guarda 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 eh mamma mia mamma mia ricordi conquistato perfettamente eh rosso lo batto io però tanto tanto mette molto molto io lo sbaglio vabbè sempre i fai sa che vabbè nonostante ci sono gozzi e robe royce legando oski tanto tanto quando ti serve davano guardate così guarda c'ha in saika c'ha in saika che t'ho detto è gol che t'ho detto eh che t'ho detto ahahah ma come hai entrato ma che stai a di ma che c'è ce l'ha buttata lui ahahahahah no no è stato pure il giro giusto guarda hai riuscito a farlo dentro hai riuscito a farlo al contrario hai capito che spettacolo vabbè 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 perfetto no no che cazzo fare quando cancane no era perfetto grande scherzai vabbè vabbè ma non è come giuda subito Oddio no dai che cazzo Tira No dai no E' POKEGOL PORCO NIA Mamma mia Non so giù Non so che non fanno noi Noi è stato capo angolo E se dentro da sopra Sempre Va bene così Attenzione No 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 Porca C***o 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 Questo perchè gli scivolati tu Perchè gli hai lasciato il buco Ma io voglio farciarlo eh Ma non puoi farciarlo invece Diciamo che non era un intervento come pulito C***o 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 Come fai che sei sua Eeeh Cos'ha generato Questi sui classici diri che entrano poi Eh non è un fattore Pazzu Dai che l'hai presa Dai che l'hai presa Non lo cagare Non te lo cagare Mortacci tua C***o Dai questi entrano Sempre C***o C***o Hai rottolo C***o Mamma mia che palle Oh C***o Mamma mia Sì Sì C***o 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 Vox C***o 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 dato proprio 18 tiri manco un porta no a non mi hanno detto perchè sono stato che cazzo però si però qualcuno dicevo solo saltatori in attacchi manco una volta l'hanno preso credibile sta sentito passo per me per prendere sto rois in mezzo a due rois ancora rois che cazzo ti dirò è ma mi spieghi perchè partilo così c'è sono due mesi rotter joystick sicuro c'è sono due volte che fa così non è che non è che cosa c'è pareggio si torna con un nuovo pareggio un'altra volta niente ragazzi comunque se non avete visto una miniatura nuova è perchè ringraziamo Deluxe che ce l'ha fatta è bellissima e ne vedrete diverse da qui al prossimo episodio di rotterio di Giovanna quindi saluto a Deluxe grazie per la miniatura e noi ci vediamo al prossimo video è bella bella